Padre Francesco Marqualdi è il parroco di San Nicola di Tolentino, voi avete accolto questi migranti ieri sera? Sì, sono tra 60 e 70 persone che sono venuti qui. Adesso si parla che forse il Vescovo li vuole ospitare a Valle Crosi, vi risulta? Ho saputo che il Vescovo ha autorizzato perfino aprire una tendopoli nel seminario, che hanno uno spazio di terreno abbastanza grande. Non so se questo sarà fattibile, perché già non dipende dal Vescovo solamente, no? Perché penso che ci sono delle leggi che contemplano la situazione di chi può, non può rimanere, per cui io lì già non c'entro più. Però il Vescovo è praticamente molto aperto. Però come pensate di gestire questa situazione, queste persone che adesso sono... Il Salone è a disposizione, finché loro ne hanno bisogno. Per il mangiare si sta muovendo la Caritas. Pensa che potrà andare avanti per molto questa situazione, diventare una cosa fissa solo temporale? Perché noi abbiamo già avuto questo problema un anno fa, sono venuti qui, credo che sono rimasti due o tre giorni. Poi se ne sono andati perché qui c'era un centro di raccolta, poi so che è stato chiuso. Quello della stazione c'è. Esatto, perché adesso si stanno producendo tutti questi inconvenienti, mi capisce? Quindi fino a quando non saprei dirlo.